Buongiorno, buon caffè. Sono affascinato nelle mie letture di questo periodo da questo concetto del bisogno primario di restare agganciati a qualcosa, soprattutto ad un affetto, soprattutto a qualcuno che ci riconosca. E allora partiamo dal concetto di fondo, dall'idea. Ognuno di noi ha un'idea alla quale è particolarmente legato, magari la scopre a un certo momento della propria vita, diventa il faro, diventa il modo con cui andiamo a interpretare il mondo, anche perché magari è una bella idea, per cui comincia a ottenere consenso, sostegno, interesse da parte degli altri. È magari un'intuizione geniale anche, un modo di interpretare la realtà o di guardarla molto particolare. È un'idea che in qualche modo aiuta a essere migliori, ma ne restiamo talmente affascinati, ci innamoriamo delle idee di noi stessi, che cominciamo a guardare il mondo tutto attraverso quella lente. Tutto diventa chiodo perché noi siamo martello, tutto diventa vissuto attraverso questa lente, che sia la gentilezza, l'igiene orale, gli altri sono nemici perché sono traditori se non votano per me, siamo in un momento di elezioni politiche, parliamo anche di questo, piuttosto che magari il tifo per una squadra, per un'idea, per un sentimento, per un modo di vedere la realtà, per la vendita, visto che parlo anche di me, piuttosto che invece per il marketing oppure per la tecnica, oppure perché siamo fissati su una particolare visione del mondo. Tutto viene filtrato da quello e allora quest'idea diventa per noi una gabbia. L'alimentazione, per esempio, la corsa, tanto per stare in campi che mi sono familiari. Diventa una gabbia perché interpretiamo tutto attraverso quelle lenti e perché lo facciamo anche per ottenere il consenso di coloro che quell'idea l'hanno sposata e che magari riconoscono in noi essere dei guru, degli esperti, dei finti esperti magari, ma questo è quello che diciamo. E questo è un secondo argomento, quello del consenso, ma che ci lega ancora di più. Ne parleremo in un altro caffè. Chiudo questo caffè chiedendo ma qual è la vostra idea? Avete anche voi un'idea che vi fa prigionieri? Ne siamo consapevoli? Ne sono consapevole io? Magari potrebbe essere anche questo caffè. Buongiorno e buon caffè!